Eccolo qua, lo puono scendere proprio lì davanti, occidenti. Eccolo qua. Dove è? Sto finendo la macchina. Saluto, caro! Ma dove cazzo è? Ce l'ha giusto che c'è. Ma perché? Ci tirano spagati? Ma no. Oh no. E lui è salitato, eh? E' bravo, no? E' bravo, no? Eh? Ma ci siamo riusciti a vederlo, Lapo? Eh no, Lapo mi fa... Ma chi se ne frega di Lapo, c'è il Presidente della Repubblica! Benvenza! Chi술! Chi... Chi... Chi? Grazie.